C'è chi dice che Lords of the Fallen sia un capolavoro indiscusso. E niente, meno male che oggi dobbiamo parlare di tutt'altro. Ciao a tutti e bentornati, ma soprattutto ciao a te, perché lo so che ora andrai qua sotto, ti iscriverai al canale e poi andrai a vedere tutti i nostri link interessantissimi in descrizione, tra cui il nostro gruppo Facebook dedicato proprio al Lords of the Fallen, dove troverai altri porta-lanterna come te che offrono aiuto, lo cercano, ma soprattutto condividono la propria esperienza. E ora, un piccolo momento per il nostro sponsor. NordVPN è lo sponsor di questo video, ma oltre a sponsorizzare noi, protegge voi. Quando siete sul web e vi collegate a delle reti pubbliche, è importante la vostra sicurezza e soprattutto che i vostri dati rimangano privati. Perché quando meno te l'aspetti, c'è sempre un senza luce pronto ad invaderti per rubarti tutte le rune. Ed è qui che entra in gioco NordVPN, proteggendoti e soprattutto donandoti un IP completamente anonimo e sicuro sul web. Tutto questo, oltretutto, ti può essere molto utile se volessi anche solo conoscere tutto il catalogo nascosto di Netflix. Poiché utilizzando una VPN tu puoi accedere dall'estero verso il tuo account Netflix italiano, oppure utilizzare questo sistema per geolocalizzarti ad esempio in Giappone e vedere il catalogo di tutti gli anime giapponesi che noi in Italia non abbiamo. Io fossi in te mi affretterei perché c'è lo sconto per il Black Friday che ti dà il 69% e in più ti regaliamo, grazie al nostro codice sconto che trovi qua sotto in descrizione, tre mesi gratuiti. E se poi non ti piace e entro 30 giorni ti rimborsano anche tutte le rune che hai speso, che vuoi di più? Che bello rimettere un po' uno sponsor ogni tanto nei video, mi fa quasi piacere, è aria di fresco, non come Lords of the Fallen. Sto scherzando, mi piace anche Lords of the Fallen, mi ci sto divertendo un casino e di fatti oggi ti porto un video aggiornamento sulle cose che non sai del gioco magari, perché ci sono delle aree che passano quasi inosservate, anche io le ho trovate in seconda battuta, esplorando, esplorando, esplorando ancora. E soprattutto fin dall'inizio del gioco ci sono un tot di cose che ti conviene recuperare perché ti permetteranno di diventare potentissimo. Inizierei subito andando al Tempio del Battesimo. Da qua possiamo fare tutto un giro astruso per andare a recuperare una spada che all'inizio è decisamente forte e potrebbe esservi particolarmente utile. Oltretutto potenziandola, questa è un'arma che diventa assolutamente funzionale, anche perché poi più avanti ne troverete una versione con spine. E potrete equipaggiarle in dual, poiché hanno un moveset molto simile e di conseguenza funzionano bene anche per giocarle insieme. Seguite tutto il percorso che vi sto facendo vedere a video, ovviamente non morite. Perché quella non è mai una buona idea. Cioè, se cadete, comunque sapete come sempre di avere la seconda possibilità passando in umbral. Che voi siate da una parte o dall'altra, in tutta questa fase iniziale non frega un fico secco a nessuno. Le cose dell'umbral e la lanterna serviranno effettivamente solo nell'ultima parte di questa guida. In questa fase voi potrete arrivare fino a questo punto stando anche in Axiom. L'importante è arrivare qua, attivare l'ascensore con la manovella là in fondo e liberarvi di tutti i nemici perché sono un po' fastidiosi. Soprattutto se fate tutto di corsa rischiate di portarvene dietro due o tre che messi tutti insieme sono un po' pericolosetti. Però se notate c'è un muro invisibile che non permette ai nemici di arrivare dalla leva. Quindi potete sfruttare anche questa cosa per vostro vantaggio. In pratica potete un po' fregarvene degli avversari e picchiarli tranquillamente a meno che non vi sparino da distante. Quelli non li potete uccidere in questa maniera. Ora che salite con l'ascensore non è difficilissimo il percorso. È quasi guidato, è l'unica strada da fare. Però c'è un punto molto particolare dove se non si sta attenti non ci si rende conto che la strada continua. Di conseguenza si tende a seguire una direzione e tralasciarne un'altra dove effettivamente c'è la nostra spada. Io qua torno in Axiom perché effettivamente ero in umbral da un pochino e oltretutto dopo l'ultima patch che ho fatto mi hanno resettato alcune porte. Di conseguenza le ho dovute risbloccare e per sicurezza sono voluto passare in Axiom per non ritrovarmi poi in brutte situazioni. Da questo lato non c'è niente da scoprire. Infatti se guardate con la lanterna non succede nulla. Mentre da questa parte c'è tutto un mondo. Come vedete c'è il ponte. Lì al centro troveremo una chiave ma ne parliamo dopo. Noi dobbiamo andare là sulla destra perché sulla destra viene rigenerata la scala grazie all'umbral. A questo punto io qua mi sono già bruciato la statuetta quindi non la sto più riutilizzando. Utilizzate la lanterna e cadete sulla piattaforma sotto e solo dopo essere arrivati su questa piattaforma passate in umbral. Se non seguirete questo, se non seguirai questo processo ti ritroverai ad essere impossibilitata ad arrivare proprio su questa piattaforma. Perché se sei già in umbral la via è completa. Quindi purtroppo è così. Arrivate a questa scala che per me è una cosa nuova non l'avevo mai notata e qui sopra troverete intanto tutta un'area molto interessante per il farming perché ci sono tutte queste uova che si possono tirare giù molto facilmente. Quella invece non si tira giù così tanto facilmente perché è super cazzuta. Non ho capito con che logica me la metterò a fianco al Nexus. Di qua non c'è nulla e quindi ora potete scappare come dei conigli. Ti sei portato a casa la spada da rettore Cremisi o Cremisi che è assolutamente un'arma ottima da utilizzare proprio all'inizio del gioco e si può ottenere semplicemente corretto. Non c'è niente da fare di particolare ma ora ti illustro anche come portarti a casa un talismano e un catalizzatore. Partiamo ora dal sonno celeste. Allora in pratica dal Nexus dobbiamo andare giù per la scala dove c'è il nostro amico padre Mei-Yai che ci regala cose. Utilizziamo la lanterna e passiamo il cancello. Qua non so perché con la patch come dicevo prima mi ha resettato le porte e me le sono ritrovate chiuse. Vi sto facendo vedere, ti sto facendo vedere il giro breve perché il giro lungo è quello che ti ho fatto vedere prima. Alla fine di tutto il viaggio che abbiamo fatto prima se fai il ponte arrivi a questo punto. Quindi è inutile che io ti faccia rivedere tutto questo. Qui possiamo decidere di andare direttamente dritti. Qua sul ponte a sinistra se sei in umbral c'è una chiave che dovrai prendere per aprire la porta che nasconde l'armatura bellissima che secondo me ti sei perso. Ma non è l'unica cosa che cela tutto questo ma tutta un'area del Nexus che non conoscevamo effettivamente perché se non siamo tornati in quest'area ce la siamo completamente persa. Quindi prendiamo la chiave torniamo qua e apriamo il portone. La sala è assolutamente suggestiva è fatta molto bene e diciamo che il level design è un pochino povero di questi trabocchetti da risolvere però nel complesso mi è piaciuta molto esteticamente è molto bella. Tutto questo alla fine cela anche un quantitativo smisurato di teschi di vigore. Quindi tutto questo porta sempre comunque a un miglioramento della qualità della vita all'interno del gioco. Quindi senza indugio andiamo a raccoglierli tutti e ovviamente nella cesta qua in fondo ci sono le vestigia che ci servono non sono vestigia sono le vesti di cui abbiamo bisogno. È un'armatura tra virgolette povera però fa dannatamente quello che serve. Oltretutto più avanti ti farò vedere come prendere un talismano che utilizzato con questo genere di armatura può anche funzionare decisamente bene aumentando il nostro danno di parecchio. Qui ti voglio far capire dove andrai a finire una volta completata quest'area e ovviamente salendo le scale. Arriverai direttamente al Nexus. Sei praticamente nella porta che c'è di fronte alla vestigia dove spawni al Nexus. Al piano terra anche qua non ti farò spoiler risolvi il puzzle ambientale che è abbastanza semplice come ti dicevo prima per ottenere il catalizzatore per utilizzare le magie di fuoco che quindi è praticamente all'inizio del gioco quindi qualsiasi classe tu userai potrai comunque sbloccare il catalizzatore praticamente subito quindi non avrai problemi nell'utilizzare anche quel genere di magia. Per chiudere in bellezza questo magnifico giro turistico del mondo di Monstred ricordati di scenderle anche le scale perché ora che sei in Umbral quel cancello che prima era chiuso adesso è aperto. In fondo troverai un oggetto con cui interagire e a quel punto potrai ottenere il pungiglione della principessa che è un oggetto oltremodo utile se vogliamo sfruttare una build leggera perché aumenta il nostro danno in base al peso degli oggetti che abbiamo un poco come un talismano che avevamo in Elden Ring ma di cui non ricordo il nome in questo momento. Ma non è ancora finita perché ora che abbiamo ovviamente un set già abbastanza interessante dobbiamo trovare una farm che ci permetta di salire di livello per valorizzare le nostre caratteristiche. E so che tu sei un tipo attento quindi sai già che abbiamo fatto un video dove ci sono tutte le farm però ne vado a prendere una in particolare e la vado un po' a migliorare anche perché purtroppo mi duole dirlo ma hanno patchato su computer la farm FK che era la cosa più bella del mondo. In pratica stavi fermo qua e basta c'erano i tizi mietitori che comparivano e si suicidavano buttandosi di sotto lasciando tutto il drop da un lato o dall'altro della passatoia e tu dovevi solo star lì lasciavi il computer acceso e tornavi la mattina che avevi 100 milioni di cose da raccogliere. Ecco ora come puoi vedere non funziona. No, cioè non... Boh. Quindi mi sono armato di pazienza e oltretutto passando un po' di tempo in quest'area mi sono reso conto che hanno aggiunto anche dei muri invisibili che bloccano la caduta dei mob. Quindi tutti i nemici che si avvicinano al bordo autonomamente non cadono. Ma questo ovviamente non vale se noi li spingiamo o se gli facciamo compiere un'azione talmente stupida per finire oltre al bordo. Quindi sala della campana e incominciamo a correre. Passiamo a fianco a testa di piramide arriviamo sul bordo e aspettiamo che lui ci butti giù venendo oltretutto con noi. Noi rinasceremo in umbral ed esplodendo butteremo giù anche l'altro mob che è sulla piattaforma. A questo punto possiamo raccogliere il vigore di tutti quanti e anche i drop perché entrambi possono lasciarci oggettistica. Ti consiglio di cadere più verso il centro della piattaforma perché in questo modo Pyramidehead casca nel vuoto. Cadendo nel vuoto gli oggetti che droppa vengono messi sulla nostra piattaforma. Mentre se lo facciamo cadere sulle piattaforme sottostanti potrebbe essere che gli oggetti vengano trasportati direttamente lì. Sono baghetti sono posizionamenti in base a dove il corpo del nemico viene in pratica calcolato dal sistema però effettivamente se usiamo qualche piccolo escamotage riusciamo a fare una media di 600 di vigore a giro e come puoi vedere ogni giro dura molto poco possiamo arrivare più o meno a fare 100 120 mila di vigore allora questa qua è più o meno la media di questa farm e secondo me essendo una farm che si incontra relativamente presto all'interno del gioco è molto utile e soprattutto per quelli meno bravi all'interno dei souls o che comunque hanno più difficoltà contro determinati nemici e hanno bisogno di compensare un pochino magari con vita o con danno questa è oro colato quindi se hai bisogno di fare un po' di vigore anche solo per comprarti un sacco di oggetti questo è il posto giusto e non ci metti neanche tanto perché farai il 600 di vigore di base ma in più droppando gli oggetti quando droppi ad esempio l'elmo di piramide lo vendi a 250 di vigore fai conto che a ogni giro mediamente droppi un oggetto da uno o dall'altro o comunque salti un paio di turni e qualcosa lo trovi ed ecco fatto un conto molto rapido per sapere che puoi arrivare anche a 150 mila questa è in assoluto la farm di rune più semplice che io abbia mai trovato dopo quella fk che ti ricordo non funziona più purtroppo hanno avuto l'idea chiamiamola così di fare 27 patch in due giorni perché tra l'altro ho scaricato una patch ieri mattina e stamattina sono arrivato a acceso computer e ne ho scaricata un'altra ogni volta che fanno una patch succede qualcosa nel mondo di gioco non ho ancora ben capito quali sono state le modifiche del momento perché non sono state divulgate informazioni e non credo che sia una patch tra virgolette di quelle grosse che abbiano anche un comunicato stampa però effettivamente ogni giorno stanno facendo qualcosina mi fa ben sperare sembra quasi che seguano passo passo tutto quello che facciamo uscire sul gioco online quindi hanno dei feedback diretti e probabilmente risolveranno un po' tutti i problemi che ha il gioco che di base uno potrebbe dire ma a me non è mai capitato niente e mi sta bene e io ti potrei dire che questa schermata l'ho rifatta con Photoshop e Photoshop e Photoshop ovviamente si scherza perché siamo noi a decidere che cosa è bello o brutto che cosa ci piace che cosa no con cosa giocare con cosa no quindi se sei arrivato fino a questo traguardo mi raccomando lascia un bel smile nei commenti cioè mettici una cavolo di concina che ti piace così io so che sei arrivato fin qua al video e per me diventi tipo un supereroe che ha voglia di farsi rompere le scatole da Andrea il mercoledì pomeriggio ecco ci vediamo nel prossimo video comunque ciao questi che vedi scorrere sono i nomi dei nostri abbonati che ogni mese ci supportano e l'unica cosa che ottengono sai qual è vedere i nostri video prima degli altri quindi ci possono dire che fanno scrifo prima di te io fossi in te mi abbonerei e farei concorrenza al loro dislike perché è così che fanno i veri eroi e quello è il banner di NordVPN perché qua sotto in descrizione c'è il nostro link 63% di sconto tre mesi gratuiti e se non ti piace 30 giorni ti danno le rune incredibile grazie a tutti grazie a tutti